un cordiale saluto buongiorno e benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa del mattino di fano tv sul canale 17 del digitale terrestre in diretta le 7.30 tutte le mattine dal lunedì al sabato bene allora cominciamo dal santo di oggi oggi la chiesa cattolica ricorda sant'orsola e le sue compagne sono 11 le compagne che hanno seguito questa questa santa che visse nel quinto secolo più o meno adesso non è precisa questa questa collocazione ma più o meno siamo lì orsola si approda nel nord europa con una nave una barca giunge a colonia costretta a sbarcare per rifornirsi di viveri queste 12 giovani vengono massacrate dagli unni che in quegli anni assediavano la città il sole è sorto alle 7.30 e tramonterà le 18 e 15 minuti allora andiamo adesso a vedere il tempo previsto per la giornata di oggi e lo facciamo con come sempre guardando il sito della protezione civile delle marche che per oggi indica un cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite nel corso del pomeriggio precipitazioni sparse prevalentemente di debole intensità prima sul settore nord della regione poi verso sud l'attenuazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio le temperature sono in diminuzione quindi oggi sarà ancora una giornata variabile per domani invece il tempo migliora e così anche nei prossimi giorni questo è sabato questo è domenica domenica c'è un po più di nuvole però ecco la cattivo tempo dovrebbe essere solo nell'entroterra ancora nella giornata di lunedì ci sarà cielo irregolarmente nuvoloso ma con basso rischio di fenomeni poi probabile bel tempo nella giornata di martedì le temperature sono in ulteriore graduale aumento quindi significa che ancora avremo un ottobre gradevole tutto sommato a parte al mattino presto e di notte insomma per il resto durante la giornata avremo una temperatura gradevole adesso i giornali di cosa si parla questa mattina si parla naturalmente ancora dell'ospedale unico ci sono ancora tantissime reazioni sul fatto su quello che è stato deciso nei giorni scorsi ovvero che l'ospedale unico che servirà principalmente fanno e pesero si costruirà a fosso seggiore cominciamo dal corriere adriatico questo è il titolo corriere edizione di pesero fosso seggiore tutte le anomalie la vendita mancata dei berloni ospedale ceriscioli vuole un accordo preliminare a pesero maggioranza spaccata a centro pagina la fotografia dei buckingham palace con il royal baby l'educazione marchigiana il metodo montessori per il principino george come insegnava ledidiana un filo diretto tra buckingham palace e dunque chiaravalle andiamo sull'altra pagina del corriere da pesero spinelli e siringhe scuola il setaccio blitz dei carabinieri mattinata con i cani antidroga negli istituti del campus e all'agrario cecchi controlli anche nelle zone maggiormente frequentate dai giovani spaccio un diciottenne è stato denunciato un minorenne che è stato riconsegnato ai genitori che però erano ignari di tutto i ladri sempre a pesero ripuliscono anche gli uffici del comune c'è stata un'incursione notturna all'ufficio anagrafe all'urbanistica e anche alla micro piscina da monte maggiore anzi da fermignano ivan cottini si mette a nudo il modello malato di sclerosi multipla si presta la campagna abracadabra il tema era la sessualità del corpo malato chi sta male non deve nascondersi dice cottini il mio obiettivo è riuscire a svegliare chi smette di vivere per una malattia e questo è appunto ivan cottini e iudi pasin sul set fotografico sotto soccorso nei boschi di cagli un cercatore di funghi l'anziano localizzato dai vigili del fuoco grazie al battito delle mani la pagina di fano la cultura dello sballo tra i ragazzini mancano luoghi di aggregazione l'allarme lanciato dall'assessore del bianco agiamo sulle forze dell'ordine sulle famiglie caterina del bianco dice la città d'inverno non offre occasioni di svago serale e dunque queste sono cose che possono se possono verificarsi ritrovi i preferiti sono i bar dove dilaga l'alcol e soprattutto dove vendono come li chiamano adesso mi sfugge ma insomma bicchieri bicchierini di alcol a pochi soldi sono un euro forse anche meno e i centri giovanili sono stati smantellati sport il turismo ringrazia nella fine settimana numerose iniziative potranno porteranno in città centinaia di atleti una coda stagionale recepita con favore dalle strutture ricettive che sono ancora aperte ora bisognerebbe vedere quanti sono ancora gli alberghi aperti a fano ma comunque quei pochi pochissimi aperti ringraziano perché grazie ai campionati di frisbee per esempio ma anche le sfide della nazionale italiana amputati cui si riferisce questa fotografia stanno portando certamente gente tifosi genitori al seguito eccetera familiari a seguito stanno portando gente a fano il carnevale invece punta a imprenditori albergatori oggi da oggi due giornate dedicate a come sfruttare le potenzialità del carnevale di fano si comincia alle 9 e 30 di questa mattina nella sala della concordia del comune dove si terrà un convegno sul tema carnevale è cultura e turismo ancora dal quotidiano marchigiano aumenta l'amore per il teatro un terzo di abbonamenti in più iniziata la vendita dei biglietti della stagione di prosa al via il 28 con anna galliena riprende anche il progetto scuola di platea per accompagnare gli studenti agli spettacoli ancora sulla valle del cesano c'è curiosità per questo animale fotografato lungo i barbanti c'è chi parla di un orso adesso spunterebbe sarebbe spuntata anche una impronta per la forestale l'animale però fotografato sarebbe solo un grosso cane ma dei nuovi scatti postati su facebook e alcuni precedenti alimentano curiosità ma anche paure guardate questa è l'impronta c'è chi è andato sul posto che ha fotografato le tracce di questo presunto avvistamento un po tutto così è tutto da verificare molte caratteristiche dicono quelli del corpo forestale dello stato non sarebbero compatibili però anni fa un marsicano fu visto ad apecchio quindi neanche tanto lontano da dove c'è stato quest'altro avvistamento a marotta si parla di turismo la rincorsa di marotta settore chiave per tutto l'anno barbieri il sindaco di mondolfo gioca d'anticipo affollata riunione voluta dal comune con gli operatori turistici entro 30 giorni si rifarà una sintesi delle proposte per ottenere un programma dettagliato e adesso l'altra pagina del corriere quella di senigallia sfregi alla passeggiata romantica e selfie da brivido sulla scogliera le scorribande in porto dei vandali innamorate innamorati sono state però riprese dalle telecamere e guardate insomma un po come hanno ridotto il lungomare le scogliere poi in via kent invece in via kent gli escrementi in garage per dispetto i residenti della zona sono esasperati rubata anche la posta fondi non richiesti siamo sulla pagina di fossombrone che errore la minoranza ha denunciato il mancato invio della richiesta alla regione marche per accedere ai fondi europei per progetti culturali così che quello per la biblioteca di fossombrone è rimasto al palo cerca di replicare l'assessore ma la contro replica sembra stroncare ogni velleità il resto del carlino ecco la foto notizia in evidenza il chirurgo della bellezza aprirà un locale si chiama certe notti al posto del pub della baia manca dice lui un locale così faccio la plastica al ristorante la foto è di Giancarlo Orazzi che è appunto il chirurgo della bellezza poi Ceriscioli scrive ai due sindaci subito agli atti per fossombrone intervista al presidente voglio investire 200 milioni per il nuovo ospedale ed eccola allora andiamola subito a vedere una delle due pagine che il resto del carlino dedica alla sanità questa mattina fossombrone è stato scelto dall'algoritmo e dai sindaci io voglio investire questi 200 milioni di euro il presidente Ceriscioli rilancia pronta la lettera per l'accordo di programma con i comuni ma ci sono anche va detto dei vincoli paesaggistici lui dice ci sono ma non sono certo insuperabili siamo convinti che in quel sito comunque si possa fare la pagina di Fano fogna cielo aperto in città una storia da terzo mondo a pochi passi dal centro storico di Fano in via canale Albani ci sono sei famiglie fanesi le cui abitazioni non sono ancora state allacciate alla rete fognaria cittadina e ancora la pagina di Fano sempre del carlino fuga di immigrati da Fano diminuisce la popolazione la mancanza di lavoro frena il flusso di arrivi il sociologo Tomassini dice ripensare servizi e welfare serve a una città senza barriere con telecamere di controllo fusione tra i comuni l'ex sindaco Vergari dice Cesania resta la speranza per il futuro spero che cambino il nome perché così è davvero brutto ma comunque non ho mai creduto alle piccole patrie bisogna amministrare oltre i confini parla l'ex sindaco di Mondolfo Gaetano Vergari che sostiene la fusione dei comuni per Cesania mentre nell'entroterra sono in fase avanzata le fusioni per dar vita ai colli del metauro e a terre roveresche insomma c'è chi sogna Cesania ma ecco per carità le varianti toccano i due comuni questo è sempre il caso ospedale e siamo sull'altra pagina forse possiamo fare anche così forse le vediamo meglio allora scegliamo questa e questa vediamo che succede eccola qua così finalmente siamo riusciti a mostrarvi le due pagine in un unico schermo va bene stiamo migliorando allora ecco qua le varianti toccano i due comuni se Fano dice no fa felice Pesaro il rebus politico chi rimarrà alla fine con il cerino in mano l'opposizione vuole invece a Fano un consiglio monotematico presentata la richiesta si farà entro 20 giorni ma anche una firma per le dimissioni di seri la maggioranza è divisa il PD a Fano favorevole la sinistra contraria a Fosso Segiore noi città che è quella del sindaco in continua insiste sul sito di Chiaruccia e poi forse non vi ho detto che c'è una camminata della salute per quanto riguarda la giornata gli eventi che si rinnovano si ripetono ogni anno ce n'è una domenica e arriveranno con questa camminata sia da Fano che da Pesaro proprio lì si incontreranno a Fosso Segiore dove dovrà nascere questo ospedale non si sa quando fra una decina 15 anni 20 anni non lo sappiamo però partenza alle 9.15 dalla palla di pomodoro di Pesaro e sempre alla stessa ora dalla tensostruttura del Lido quindi parteranno da nord al sud e si incontreranno a metastrada a Fosso Segiore. Con questo appuntamento vi ringrazio e vi saluto vi auguro una buona giornata vi ricordo come sempre che c'è la nostra applicazione sia su Google Android che su Apple Store gratuitamente disponibile per essere sempre aggiornati su quello che accade in città e non solo quindi andate su questi store e digitate occhio alla notizia scaricate e così saprete sempre quello che succede abbiamo anche la possibilità degli alert vale a dire che se c'è una notizia importante noi ve la comunichiamo sul display del telefonino qui non c'è bisogno di aprire niente vi arriva direttamente sul telefonino chiaramente la usiamo con parsimonia quindi non vi tempesteremo di messaggi ma solo quando c'è bisogno e quando c'è qualche notizia rilevante per il resto gli aggiornamenti sono all'interno dell'applicazione poi vi ricordo che c'è anche la possibilità e qui vi invito come sempre a essere molto partecipi a inviarci le vostre segnalazioni attraverso anche WhatsApp basta memorizzare sulla vostra rubrica del telefono il 338 49 68 250 scrivere occhio alla notizia così ci memorizzate sotto questo nome e poi inviarci foto video e quant'altro utilizzando questa applicazione che è utilizzata da più di un miliardo di persone nel mondo e che ci dà la possibilità di rimanere in contatto diretto non ho altro da dirvi grazie per averci seguito buona giornata Grazie per aver guardato il video